Sono Francesco Cilia e sono responsabile marketing del gruppo Bonome S.p.A. Oggi al consumatore finale non basta che uno faccia un buon prodotto, bisogna anche saperlo raccontare e comunicare le peculiarità di questo prodotto. Per questo siamo presenti nei maggiori social e promuoviamo anche l'eccellenza siciliana attraverso le maggiori fiere di settore a livello mondiale. Sono Caruso Maria Chiara e sono tecnologa alimentare. Una volta raccolto il prodotto viene trasportato in magazzino. Il primo step è quello del controllo qualitativo della merce. Viene infatti misurato il grado BRICS, l'acidità, la resa in succo, oltre ad un controllo visivo della buccia e della colorazione della frutta, del prodotto. Le certificazioni che abbiamo sono il Global Gap, che racchiude un insieme di standard sulle buone pratiche agricole, il modulo Grasp, che riguarda le buone pratiche sociali. Inoltre, per dimostrare il nostro impegno sulla sostenibilità dell'acqua, abbiamo iniziato l'iter per la certificazione Spring. Altre certificazioni sono gli FS, il BRC e inoltre siamo iscritti a due enti di certificazioni per le denominazioni a marchio europeo.